In modestia, non vi faccio vedere casa mia, perché? Un po' male in casa, ma in modestia? Anche perché, no, intanto più dire, proprio di fronte io ci abito, è la mia casa, la che è del Settecento, che ha l'anno otto. È una casa un po' particolare, in tutto il contesto del paese, la mia, credo che sia la seconda casa che ha il pozzo in casa. Perché è stato la casa che ha il pozzo in un'interiore? Beh, che fa la ridere, beh. Quando gli altri andavano ancora a bere la sorgente, qui in un ucchiato, quando gli altri andavano a bere l'acqua di sorgente, C'è la seduzza per acqua, i sborsi stanno andando per un'altra casa per acqua. Non avevamo il pozzo in casa. Noi avevamo un pozzo in casa. Mi piace ridere. Ed era il centro di raccolta, ma c'era una ragione, era il centro di raccolta di quando arrivavano i predati, le sorghe, Eravamo un centro, un passato, non predati, e venivano lì a mangiare, a dormire, e in attesa di traghettare all'indomani il pova per essere portati, poi su la via francigena, che, come diceva Pavan, adesso hanno messo giù i cartelli che indica la fine della strada al mio paese. Direi che è sufficiente quello che ho risposto. Non so più cosa farvi vedere. Non so più di sangue. Ah, no, no, la poesia. 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 Forse è stato il libretto verde. No, 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 lascia stare, perché sennò qui abbiamo nutrito lo spirito, ma anche il corpo, le sue esigenze, eh? Come no, all'unica e ventica. Allora, il titolo è Rosa d'inverno. Ho tagliato questa, vi dico questa, che sono 240 storote. C'è gente che... Sarò breve. C'è un poeta che ha detto come... Lo si aveva detto per... 5 parole aveva fatto la poesia. No, è subito sera. Punto. E aveva finito la poesia. Minuto, mezzo. Punto. Fine. Ah, chiamo. E ho insolvato da fare un po' di più. Vabbè, comunque sentito, La Rosa d'inverno. Nel mio rinsecchito giardino Oggi è fiorita una piccola rosa solidaria. Neppure il gelido vento riesce a strapparla. Profumi di tardive brezze, di romitordo e acetosella. Il bocciolo albero a bizzarre foglioline stente. Mi nebrierò del suo profumo come ave affamata che fa cosi da miele al suo favo. E con l'ultimo polline vi morirò nel calice della mia tardiva stagione. Grazie. Bravo, bravo. Grazie. Io ci stai qui, perché sono capace di tenervi qui, perché ho dato un paio d'ore, ma qui si fa, non fa tardi. Grazie molto, grazie a lui Giorgio Vila, che ha dato un plus di Farmec, un'incheiere che poteva essere comuni e senza ammintire in memoria a lui. Grazie. Grazie. Grazie.